Buonasera a tutti, siamo in diretta da Mosca, dall'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, io sono Daniela Rizzi e l'occasione che ci vede questa sera riuniti con Giorgio Moretti, Salvatore Congiu e Lucia Masetti è l'inizio della settimana della lingua italiana, la ventunesima settimana della lingua italiana dedicata quest'anno, anno del Giubileo Dantesco appunto a Dante. La settimana della lingua italiana è una manifestazione che si svolge tutti gli anni a cura del Ministero degli Affari Esteri che con proprie iniziative e con le iniziative che i diversi istituti italiani di cultura nel mondo mettono in atto celebra ogni anno per l'appunto la festeggia, la lingua italiana, dando ogni anno un tema diverso alla manifestazione. Quest'anno per l'appunto è la volta di Dante, figura all'insegna della quale tutto il nostro 2021 di istituti di cultura si è svolto, in particolare qui a Mosca abbiamo organizzato numerose iniziative e altre ne abbiamo in programma sempre su Dante. Questa settimana ogni giorno ci saranno due quiz in Instagram, due quiz che riguardano argomenti linguistici e danteschi e una serie di altre iniziative sulle quali vi potrete informare consultando il nostro il nostro sito. I due quiz che ho ricordato sono prodotti a cura degli ospiti che questa sera abbiamo invitato a partecipare a questa prima manifestazione della settimana che sono gli amici di Una Parola al Giorno. Una Parola al Giorno è un sito, un portale, non so come definirlo, adesso ce lo diranno loro che ormai da numerosi anni, compie, porta avanti un'attività di divulgazione alta, anche di questo ci diranno loro come intendono se stessi e la propria attività, un'attività dunque di divulgazione alta che riguarda appunto la lingua la lingua italiana. Com'è articolata questa attività adesso lo ascolteremo ma la prima cosa che mi piace ricordare è quello che sembra essere diciamo il loro motto e il principio al quale tutta la loro attività si informa che è una sorta di slogan dalla qualità delle parole che conosciamo dipende la qualità dei pensieri che facciamo. Quindi questa forte connessione tra capacità di parlare e capacità di pensare che mi sembra un bellissimo punto di inizio di questa conversazione. Chi vuole cominciare? Direi comincio io. Grazie mille professoressa Rizzi per averci invitato per essere qui, siamo veramente molto molto felici. E allora Una Parola al Giorno è un servizio, fa un'azione culturale ma di solito la chiamiamo di intrattenimento culturale quindi noi cerchiamo di creare una piccola buona abitudine in chi ci legge compiere una riflessione linguistica tutte le mattine tutti tutti i santi giorni perché fare una un grande sforzo magari leggendo una volta ogni tanto libri o testi importanti sulla lingua sulla linguistica può avere un effetto ma sappiamo tutti che sono le piccole abitudini che portiamo avanti compiamo tutti i giorni a fare poi la differenza. Noi operiamo essenzialmente sulla qualità delle parole che conosciamo pubblichiamo ormai da più di undici anni tutti i giorni una parola spiegata e commentata può essere una parola desueta una parola che magari non capita molto spesso di di trovare che non fa parte del nostro vocabolario solito tante volte invece anche una parola comune che usiamo normalmente perché non è solo importante ampliare il proprio vocabolario ma anche approfondirlo e quindi riuscire anche a cogliere le sfumature e le rotondità diciamo delle delle parole che si usano però il tutto ecco nonostante sia abbia uno standard scientifico elevato è condotto in maniera che sia divertente piacevole da da seguire in questa maniera siamo riusciti in questi in questi anni a mettere insieme una una comunità davvero molto vasta di di persone soltanto insomma sul sul sito abbiamo siamo seguiti da circa centoquarantamila persone e e quindi diciamo mh riusciamo eh con con profitto a portare avanti un intrattenimento culturale che è tutt'altro che scontato in questi in questi tempi ehm io sono fra i fondatori del del servizio e lo faccio ormai appunto da da tantissimo tempo però abbiamo anche la fortuna di avere avuto delle collaborazioni di aver trovato delle persone a cui collaborare che hanno arricchito moltissimo questo questo servizio e infatti chiederei ora di intervenire a lucia e a salvatore per raccontare un po anche la loro eh esperienza sul sul sito sì allora mh comincio io ehm in pratica io sono arrivata su una parola al giorno per caso nel senso che nel lontano duemila e diciassette se ricordo bene stavo cercando un'etimologia su internet e sono capitata su questo sito e mi ha subito colpito come così come iniziativa poi si capiva che era stata una cosa eh spontanea quindi con tutta la passione eh delle cose nate così senza come dire senza un disegno calato dall'alto ma nello stesso tempo eh era molto costante e metodica quindi riusciva ad unire eh queste due qualità che è difficile trovare insomma insieme e quindi eh siccome sul sito diceva dicevano che eh cercavano collaboratori mi sono proposta chiaramente all'interno di quella che è la mia area di competenza cioè la letteratura io ho appena concluso il dottorato e a maggio di quest'anno un dottorato in studi umanistici presso l'Università Cattolica di Milano dove ho fatto praticamente tutto il mio percorso di studi e mh e in particolare sono specializzata in letteratura italiana moderna e contemporanea quindi appunto ho proposto degli approfondimenti letterari ed è venuto fuori che eh in realtà Giorgio mh voleva espandersi in questa direzione da parecchio tempo quindi insomma aspettava che che arrivassi io e mh e quindi ecco iniziata a scrivere articoli che sono andati avanti per due anni e che hanno avuto un successo veramente insperato una grandinata di commenti da parte di questo pubblico affezionatissimo veramente il pubblico di UPAG è straordinario e e quindi poi sull'onda di questo successo abbiamo pensato appunto che che fosse un una bella idea raccogliere questi articoli in volume anche dandogli una maggiore struttura e e anche lì abbiamo avuto un esito veramente insperato nel senso che eh il libro è nato eh il primo volume che abbiamo pubblicato quindi il giro della letteratura in ottanta parole che che ancora in vendita sulla bottega di UPAG eh è nato hm come dire in modo così autofinanziato quindi con un'iniziativa di eh fundraising organizzata da da Giorgio che aveva un tetto abbastanza modico mi pare fosse sui novemila euro per un cinquecento copie avevamo preventivato e in realtà questo tetto è stato sfondato perché nell'arco di ventiquattro ore era già raccolto tutto il necessario e poi eh come dire ha continuato a crescere il il gruppo. Mi siete fatti ricchi? Mi siete fatti ricchi? Diciamo diciamo che siamo riusciti a mettere insieme una un nucleo economico che ci ha permesso di trasformare UPAG in qualcosa di diverso e quindi adesso lo facciamo eh tutti gli anni ecco di eh pubblicare di pubblicare nuovi libri ed è un modo appunto per sostenere questa per sostenere questa attività eh quindi sì diciamo Lucia è stata è stata un po' una chiave per questa per questa trasformazione ehm ha portato avanti questo ciclo è stato davvero il diciamo il primo ciclo molto longevo con questi scorci sulla sulla letteratura che abbiamo che abbiamo ospitato però un altro ciclo straordinariamente longevo che abbiamo che che abbiamo coltivato su una parola al giorno è stato quello di Salvatore. Io sono l'ultimo arrivato eh effettivamente anche e anch'io come molti suppongo sono arrivato eh su UPAG per caso eh in realtà da insegnante stavo cercando delle delle cose che fossero funzionali all'arricchimento lessicale dei ragazzi che è una cosa chiaramente vitale diciamo vitale e necessarissima e niente mi sono imbattuto nel sito mi è piaciuto molto e dopo un po' di tempo mia moglie mi ha detto senti ma sai è vero che cercano collaboratori perché non non proponi qualcosa? Ho detto ma ok ma cosa? Allora ci ho pensato e a un certo punto mi è venuta mi si è accesa la classica lampadina perché ho detto io da tanto tempo coltivo questa questo hobby per l'apprendimento delle lingue straniere quindi ho detto facciamo qualcosa con con questo e dopo questo così mi è venuta in mente l'idea della della strana coppia cioè di un di una cosa che in qualche modo fosse una cosa diciamo multilinguistica e quindi mettesse a confronto parole italiane con parole straniere che avessero la stessa origine quindi non dei banali falsi amici cosiddetti falsi amici come ce ne sono tanti insomma con con tutte le lingue che però spesso sono del tutto casuali chiaramente insomma la somiglianza puramente accidentale ma delle parole che avessero la stessa la stessa origine e poi si fossero appunto ramificate e ramificate diversamente e quindi è iniziato. Con Salvatore siamo riusciti a proiettare le nostre le nostre riflessioni anche su altre su altre lingue perché ora non lo sta dicendo però lui parla correntemente cinque lingue e quindi anche il russo no quello temo di no quello temo di no e però questo gli ha permesso di appunto osservare come è che stesse radici etimologiche quindi anche come concetti che originariamente partivano da uno stesso da uno stesso nucleo si siano poi diramati in lingue differenti. Sì e questo tra l'altro il discorso dei falsi amici è molto interessante perché poi si inserisce perfettamente nel nel progetto di di UPAC secondo me nel senso che è proprio l'idea no del di queste parole sorelle che a me piace chiamere sorelle cioè non non fa non banali falsi amici ma parole parole sorelle che si caricano di significati nelle diverse lingue proprio perché perché è normale che le parole in qualche modo raccolgano diciamo dei significati per per tanti motivi che non sempre sono gli stessi in diverse lingue però c'è sempre naturalmente una una logica in questo e la cosa è interessante perché sono delle sfumature o comunque delle possibilità che sono insite comunque nella lingua e in ogni in ogni parola e queste sfumature essenzialmente sono come dire hanno molto a che fare con ciò che che UPAC fa e tra l'altro Giorgio lo sta anche valorizzando ultimamente ho visto questo discorso dei dei sinonimi e cioè il fatto che i sinonimi sono qualcosa di molto interessante molto complesso perché difficilmente due sinonimi sono sinonimi perfetti e quindi comprendere tutte le sfaccettature tutte le sfumature più o meno più o meno sottili di una parola significa come dicevamo anche prima cogliere delle sfumature di pensiero quindi siamo sempre nella nello stesso nello stesso ambito essenzialmente sì direi questo questi sono soltanto due fra i cicli che abbiamo che abbiamo ospitato per un altro che sta avendo grande fortuna se riguarda le parole di origine semitica quindi di origine araba ed ebraica nella nostra lingua che è curata da una ragazza insomma più o meno della della nostra età che si chiama maria costanza boldrini e anche quello diciamo piace molto perché quello diciamo è un ciclo che invece non cura tanto una parte letteraria oppure una parte come dire più di confronto linguistico ma c'è anche una parte storica più importante perché naturalmente le parole che derivano da dall'ebraico dal dall'arabo sono parole che hanno sempre delle storie da raccontare perché insomma arrivano tra contatti commerciali culturali abbastanza rilevanti nella storia del dell'italiano sarebbe utile che qualcuno facesse un articolo anche sulle parole russe che sono diventate ormai parte dell'essico stabilmente parte dell'essico italiano sarebbe interessante una cosa un'escursione di questo genere ma volevo chiedervi e a lei Giorgio in particolare per come mai questo e anche a Lucia nel suo salvatore forse a qualche anno più di voi se non se non sbaglio decisamente e quindi diciamo rientra in questo in questa domanda che vi sto per fare come forse più come insegnante che dall'altra dall'altra parte diciamo della della cattedra come come vi è sorto questo interesse per la per la lingua per le parole in un mondo come è il nostro che sappiamo bene essere piuttosto sciatto linguisticamente ci incontriamo spessissimo con persone che usano una parola al posto di un'altra pensando che una certa parola abbia un significato invece ne ha un altro oppure ci incontriamo spesso con errori di ortografia o di grammatica che vengono a volte anche da persone diciamo insospettabili no comunque la cui grado di istruzione dovrebbe non consentire questo tipo di equivoci questo senza fare nessuna lode dei tempi passati è un po' un prodotto dei tempi questa velocità della della comunicazione questa superficialità a volte della della comunicazione questo accontentarsi di uno strato linguistico volto solo appunto allo scambio immediato e che non ha a che fare con un'elaborazione vera linguistica di pensiero eccetera tutto questo ci ci fa vivere in un in un ambiente che non favorisce certamente questo lavoro lodevole che state facendo voi ed è curioso e molto interessante che sia nata proprio a persone molto giovani questa esigenza e questa idea lei Giorgio diceva che sono più di undici anni che fate questa quindi avete cominciato molto presto Lucia si è associata più tardi ma è con ogni evidenza molto giovane anche lei dunque che cosa hai scritto io e Massimo avevamo Massimo Frascati è il mio il mio socio abbiamo fondato insieme una parola al giorno avevamo venti anni quando abbiamo iniziato a fare a fare una parola al giorno e potrei dire che diciamo è un certo tipo di trascorso personale di passione per la lettura che porta ad avvicinarsi all'importanza delle parole la realtà però se posso provare a fare un pensiero un po più complesso chissà che le parole sono importanti non ha bisogno che qualcuno venga a dirgli che le parole sono importanti invece noi siamo partiti invece da una prospettiva più di piacere le prime parole che abbiamo che abbiamo pubblicato appunto noi io ho avuto un percorso da giurista quindi non ero un linguista diciamo professionista e Massimo comunque lui ha studiato psicologia un informatico ehm ai tempi appunto non eravamo particolarmente eh bravi o capaci non avevamo competenze particolari in in materia però abbiamo iniziato perché era una cosa che perché riuscivamo abbiamo siamo riusciti a vedere eh dei profili di bellezza e di intrattenimento proprio eh le prime parole che pubblicavamo infatti erano parole con etimologie curiose o con significati particolari eh che diciamo sono un po' il gradino eh di accesso più semplice alla meraviglia delle parole infatti la cosa su cui ci piace interrogarci non è tanto sul perché le parole sono importanti questo è un discorso che viene portato molto avanti ed è molto importante ehm però diciamo tante volte rischia di rivolgersi a platee di persone che sanno già che le parole sono sono importanti invece molte volte dire che le parole sono importanti a eh persone che non hanno i mezzi per poi coltivare eh questa questa importanza nella loro nella loro vita eh rischia di restare sterile se invece si parte domandandosi ma perché ci piacciono che cosa c'è di appassionante in in tutto questo allora si riesce anche a parlare a delle persone che altrimenti non ascolterebbero quindi si riesce anche sempre con questo con questa tecnica diciamo della dell'abitudine di intrattenimento eh leggera a scavare la roccia eh di una resistenza rispetto alla passione eh verso verso le parole e l'approfondimento anche ehm diciamo il il nostro punto di partenza la chiave di tutto è che noi siamo i nostri primi utenti noi siamo i primi a a volerci divertire in quello cioè letteralmente all'inizio di Massimo eravamo i nostri primi utenti nel senso che eravamo gli unici iscritti a una parola al giorno poi sono arrivati eh gli amici e poi il passaparola e siamo siamo cresciuti ma noi continuiamo ad essere i nostri primi utenti e noi cercavamo questa cosa che non c'era nel nostro eh insomma online nel nostro panorama non 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 esisteva abbiamo deciso di crearla noi sentendo il nostro stesso polso eh sentendo che cos'è che ci interessava avendo come guida la nostra eh stessa curiosità eh e questo diciamo è stato una una guida che non ci ha tradito in questo in questo lungo percorso e anzi ci ha fatto capire che forse è proprio un un metodo che può funzionare più di altri più più tradizionali quindi non partire dal presupposto che quello che diciamo è davvero molto importante e ne siamo assolutamente persuasi che sia importantissimo eh riuscire a coltivare una una precisione sui sinonimi sull'ampiezza eh del dell'essico è veramente importantissimo ma c'è una questione preliminare che deve piacere deve deve riuscire ad appassionare e questo si fa attraverso diciamo un certo sforzo eh narrativo eh che ormai appunto nel nel nostro gruppo siamo riusciti a mettere appunto eh molto bene eh e niente questo ecco penso che sia il pensiero un po' più complesso che posso che posso offrirvi su eh su com'è che è è venuta a noi questa questa idea ma siete riusciti da quello che sapete del del di sulla composizione del vostro pubblico siete riusciti a eh scalfire la roccia dell'indifferenza linguistica nel senso eh siete riusciti ad arrivare a quel pubblico che non avrebbe pensato prima di voi che le parole erano sono importanti secondo quello che sapete della della dell'utenza eh questa operazione è riuscita? Non è facilissimo da sapere questa questa cosa è un po' complessa. Perché mi scusi l'impressione a volte è quella che come dire sia stato più un raccogliersi intorno ad un'iniziativa eh eh così molto molto interessante un raccogliersi di persone che già eh avevano questa passione più che eh di persone alle quale alla quale è venuta in corso d'opera? Diciamo allora dipende anche molto dai dai mezzi eh cioè dai canali che che usiamo eh senza dubbio eh siamo diventati appunto un po' un punto di ritrovo per le persone che hanno già questo tipo che hanno già questo tipo di interesse però su altri canali come per esempio Instagram dove è più difficile ehm diciamo che si che venga che siano luoghi di coltivazione di questi interessi riusciamo comunque ad avere un un successo notevole e questo ci fa pensare che comunque si riesca ecco anche a parlare a persone che normalmente non non ascolterebbero. Naturalmente c'è ancora tanto che si può fare c'è ancora si si può migliorare si può migliorare ancora e abbiamo un po' di idee in in merito su come riuscire ad arrivare a ancora più lontano cioè ancora diciamo verso la periferia dell'interesse verso eh verso la lingua però comunque nel nostro piccolo stiamo stiamo facendo qualcosa stiamo ottenendo dei risultati anche qui. E vi volevo chiedere come come è la cucina della vostra iniziativa nel senso come nasce la parola del giorno eh come chi se ne chi decide come si decide chi se ne occupa chi scrive il pezzo o è sempre la stessa persona e lo sottoponete l'uno all'altro per approvazione non so com'è il processo di di indivenire della vostra della vostra attività? Allora io diciamo i cicli di di parole sono curate sono curati da eh persone singole quindi per esempio ora Salvatore ha iniziato con un nuovo ciclo di parole eh sono le parole filosofiche ehm e sono parole diciamo che eh cura integralmente integralmente lui eh poi naturalmente c'è una rilettura del dei dei testi nessuno pubblica eh autonomamente eh però ecco ciascuno ha dei collaboratori eh come Lucia Salvatore Maria Costanza eh sceglie eh cioè diciamo a a piena libertà all'interno del proprio del proprio ciclo quindi eh sceglie le le parole che reputa migliori di in quella in quell'argomento e le tratta come come meglio crede poi naturalmente ci confrontiamo invece sulle le trattazioni ordinarie delle parole eh sono curate essenzialmente da me da dal dall'inizio e al di fuori di questi cicli diciamo che il la scelta delle parole avviene molto in base ai suggerimenti eh degli utenti perché avendo questa quantità di utenti abbiamo anche una quantità di suggerimenti faraonica eh da non poter smaltire cioè se smettessero adesso di di suggerirmi parole ne avrei per i prossimi venticinque anni che vedo e mh a partire da questi da questi suggerimenti poi naturalmente si conducono ciascuno di noi eh o all'interno del ciclo o fuori 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 dal ciclo eh conduce le proprie ricerche etimologiche eh storiche sui significati della parola sui significati attuali come è mutata dove viene usata eh quindi diciamo mh l'organizzazione è questa se mi vuole chiedere anche qualcos'altro prego non so se se le ho risposto se sì 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 bellissima no dico giudicare dalla dalla verve che vedo in ogni in ogni nuovo articolo in ogni nuovo lemma commentato non l'entusiasmo non viene meno anzi aumenta dal con il tempo quindi eh diciamo un un processo che si alimenta di continuo di di nuove di nuovi stimoli di nuove idee questo è molto bello perché a volte succede che un'iniziativa condotta su questo tipo di di mezzi o comunque un'iniziativa to cure dopo un po' eh no eh segna il passo e viene meno eh lo stimolo iniziale invece nel vostro caso eh anche giudicare dalla vostra produzione editoriale perché avete pubblicato diversi libri tra cui quest'ultimo in ordine di tempo e prima del giubileo dantesco no è datato 2020 questo Dante libera tutti eh chi di voi ne vuole ne vuole parlare? Beh intanto vi vi anticipo un un'impressione che ho avuto leggendo questo libro più che un'impressione un motivo di apprezzamento uno dei motivi di apprezzamento sta nel nel fatto che è un libro eh come voi scrivete di solito i vostri articoli da un lato leggero perché contiene molti elementi ludici da quell'altro molto rigoroso è un libro libero mentalmente perché è un libro scritto in una forma senza note senza senza nulla che lo appesantisca in maniera eh in maniera eh fastidiosa ma eh estremamente mh aderente al testo dantesco stesso che fa parlare in un certo senso eh con questo modo di attirare che consiste nell'attirare l'attenzione su aspetti che magari eh un lettore anche consumato può non aver notato o non aver così eh presenti quindi è un libro serio ma eh non eh ma non pedante eh ma e ma non è un un libro di quel formato diciamo così che purtroppo attira tanti eh dantisti della domenica e cioè non non indulge a quella eh desiderio di dire la propria opinione su Dante che eh è una sorta di malattia, che di cui credo che ci siano esempi di contagio in tutto il mondo in Russia sicuramente ci sono eh quindi è un libro che che aderisce al al testo comunica dei dei fatti eh apre delle delle dei riflettori su determinati aspetti eh in maniera lieve ma non non è fantasiosa ma non eh senza mai andare fuori dal seminato ecco questo è uno dei motivi che me l'ha fatto apprezzare poi il resto lo dico dopo adesso vorrei sapere come come è venuta a voi l'idea della struttura di questo libro no che sono si articola in capitoli per chi non l'ha visto per chi non l'ha letto eh ciascuno dei quali parla di una delle libertà dantesche diciamo no? Giorgio. Sì introduco introduco io poi faccio parlare Lucia e Salvatore ehm parlando di lingua italiana capita costantemente di parlare di Dante volenti o nolenti eh quindi siamo ci siamo avvicinati a questo duemilaventuno eh all'insegna di Dante frequentandolo molto quotidianamente nessuno di noi tre è propriamente un dantista per per studi per studi accademici però eh diciamo è uno è Dante è una persona che abbiamo frequentato molto eh sia per trascorsi personali sia proprio su una parola al giorno per per lavorare su una parola al giorno eh quindi ci siamo domandati se potevamo eh alla luce di quello che avevamo visto osservato anche tutti insieme a livello di di comunità in in quegli anni ehm dire qualcosa su Dante e quando ci si viene in mente che si potrebbe dire qualcosa su Dante si è già in una posizione un po' ridicola perché eh sono stati pubblicati centinaia di migliaia di libri su Dante quindi eh come si può arrivare a farne un altro pensando di eh di voler di voler dire qualcosa magari anche non so di nuovo eh quindi eh abbiamo cercato di stare con molto con i piedi con i piedi per terra noi parliamo di lingua su una parola del giorno e eh volevamo quindi parlare di qualcosa che riguardasse la lingua la lingua di Dante però molte volte osservare la lingua di Dante eh fa perdere di vista che la lingua è uno strumento eh è uno la libera una libertà una grande libertà linguistica è sempre strumento e segno di una grande libertà intellettuale e quindi ciò che abbiamo cercato di osservare nella Divina Commedia è questa testimonianza della libertà linguistica come strumento di una libertà intellettuale e tutta questa serie di libertà che abbiamo individuato insieme eh e che ci siamo poi diciamo eh divisi siamo divisi la trattazione anche veramente a seconda delle nostre passioni personali ehm abbiamo cercato di capire come è quali fossero le libertà che Dante si prende nella Divina Commedia che potessero essere testimonianze di libertà che noi ci possiamo prendere quindi non sono la libertà del genio eh sovrumano eh che insomma non sono accessibili alla alla persona comune sono libertà anche molto quotidiane eh e diciamo il risultato eh io io la ringrazio molto delle parole che ha riservato a a questo libro siamo felicissimi ecco di questo di questo suo giudizio nei confronti del libro e quello era era il nostro intento quello di stare eh veramente con i piedi per terra con i piedi sul testo io non ho studiato eh letteratura all'università ma ho studiato legge che è la materia in cui in assoluto si sta meno con i piedi sul testo e più sui commenti al al testo di legge e e quindi era un'urgenza che avevo sempre sentito molto quella di dover ripartire ripartire dal testo però appunto direi Lucia e Salvatore parlate voi delle delle libertà che avete scelto ma allora io ehm in realtà mi sono appassionata subito appunto a questa proposta di Giorgio perché rispecchia perfettamente il modo in cui eh da sempre in realtà mi sono avvicinata alla letteratura in generale e a Dante in particolare perché appunto io sono specializzata in letteratura contemporanea però Dante è stato il mio primo amore lui e Manzoni insomma sono quelli che mi hanno fatto appassionare poi a tutta la letteratura ecco ehm perché ecco mh non eh alcuni dicono che mi hanno detto che il mio approccio alla letteratura è un po' spurio e in effetti da un certo punto di vista è così nel senso che per carità eh è ovvio che la prima caratteristica della letteratura è quella di essere bella e quindi anche di avere una struttura una forma molto ben pensata anche soprattutto nella letteratura eh medievale anche molto rigida no la terzina dantesca è proprio incatenata in tutti i sensi e però come dire questa bellezza non è da godere in se stessa almeno per come io vedo la letteratura ma è lo strumento attraverso cui l'esperienza dell'autore quindi un'esperienza di vita si traduce in qualcosa di universale anzitutto quindi che può essere recepito in ogni tempo e luogo e anche di polivalente quindi la bellezza della letteratura come come scrive anche Calvino un classico è il libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire perché dice una cosa diversa a ogni persona a cui parla da tanto è ricco in sé e questo è il motivo in realtà per cui eh sicuramente Dante con tutti i libri che sono stati pubblicati su di lui avrà pensato forse ma ad essere proprio larghi un decimo di tutto quello che è stato detto sulla commedia ma questo non vuol dire che tutto ciò che è stato detto ai commentatori sia necessariamente falso o superfluo anzi vuol dire che l'opera è sempre più grande del suo autore e quindi appunto questo questo progetto mi ha dato l'opportunità che in ambito accademico non c'è molto perché si tende sempre a sottolineare gli aspetti più più formali volendo un po' più aridi del del testo poi c'è molta iniziativa personale però il lo standard accademico è quello no appunto le note la precisione giustamente ma questo progetto mi ha dato ha dato a me anzitutto la libertà di esplorare Dante nel modo in cui eh come dire così spontaneamente mi piace farlo cioè eh che cosa dice prima di tutto come un uomo no quindi l'opera come espressione di un'esperienza con cui io posso entrare in contatto e posso dialogare quindi che cosa come era l'uomo Dante che cosa pensava come sentiva e conseguentemente che cosa questo dice a me come donna di oggi quindi in che cosa posso ritrovarmi che cosa posso calare nella mia esperienza e così via e e quindi per me la commedia è anzitutto un luogo di incontro proprio con l'autore con i suoi personaggi e volendo anche col personaggio come dire eh più grande della commedia cioè Dio stesso perché alla fine la commedia è un viaggio è una meditazione anche proprio religiosa e quindi siccome anche questo questo argomento a me personalmente a passione piace è stata anche una uno spunto in quel senso quindi di eh di approfondimento su tematiche anche propriamente religiose e e quindi appunto penso che il il merito di questo progetto sia quello di come diceva Giorgio far far vedere perché a noi piace Dante e quindi perché potrebbe piacere anche al lettore questo è come dire lo scopo primario e non semplicemente un dire Dante è importante leggetelo eh sì però recentemente la interrompo recentemente c'è stato un convegno qui a Mosca su un convegno internazionale su Dante in realtà le le due uniche nazioni rappresentate erano la Russia e l'Italia dal punto di vista dei relatori e uno dei relatori italiani che avevo avevamo invitato eh ha esordito che non nominerò ha esordito eh dicendo la commedia va letta perché è bella un motivo diciamo eh che a volte eh è è che appare quasi secondario rispetto in effetti a tutta la l'abbondanza di commenti e anche di divagazioni molto spesso eccessivamente fantasiose che si fanno su questo argomento quindi eh è un'occasione di incontro come diceva adesso Lucia con eh la bellezza della poesia e come sembra dal 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 titolo della struttura del vostro libro con il concetto di libertà in che è un concetto che eh io credo in questa in questa fase epocale dobbiamo sottoporre ad una revisione o meglio ad una nuova riflessione eh a una nuova definizione quindi mi pare che il porre il tema della libertà connesso con la lingua e connesso con Dante eh sia una un'operazione di grande intelligenza su questa ecco su queste libertà Salvatore lei che cosa quale di queste libertà ha ha prediletto? Ecco dire ecco dire bisogna leggere la commedia perché è bella e facile naturalmente no ma molto più difficile dire bisogna leggere eh la commedia perché ci insegna essere liberi questa è stata veramente un'idea un'idea una Giorgio è modesto e non lo dice ma è tutto merito suo perché è lui che ha avuto l'idea perché noi inizialmente pensavamo anche diciamo chiaramente è considerato insomma quello che fa una parola al giorno di concentrarci magari su delle singole parole particolarmente rilevanti ma poi Giorgio è venuto fuori con questa idea una secondo me è geniale eh e appena appena me l'ha detto eh mi si è accesa non una ma tantissime lampadine perché effettivamente ho pensato è così Dante ha moltissimo da insegnarci e secondo me il il pregio eh maggiore di questo di questo libro è proprio questo cioè è quello di far capire quanto eh Dante davvero possa liberare tutti e abbia molto da dire eh ancora oggi quindi io chiaramente il nucleo principale insomma delle delle cose di cui mi sono occupato è quello linguistico quindi soprattutto diciamo sono eh le parti di cui mi sono occupato sono eh quindi quelle di natura linguistica per cui in particolare chiaramente eh la libertà linguistica di Dante e cioè il suo atteggiamento totalmente laico e liberissimo nel maneggiare la lingua ma più che maneggiare nel forgiarla nel fabbricarsela cioè Dante si è fabbricato una lingua eh secondo le sue esigenze e non si è fermato davanti a nulla davanti ai forestierismi davanti ai dialetalismi davanti ai neologismi neanche perché quando quando ha voluto se le inventate le eh le parole in maniera straordinaria tra l'altro con una straordinaria libertà eh ma questa libertà eh linguistica naturalmente eh è chiaro che è soltanto diceva giustamente Giorgio prima un passo perché è funzionale alla libertà eh intellettuale e Dante ne dimostra moltissima nella nella commedia eh non è scontato perché mh insomma ci sarebbero tanti motivi per cui insomma uno potrebbe pensare pensare il contrario eh insomma un autore medievale che ha scritto assuma sorta di enciclopedia del sapere medievale non è scontato che che ci sia della libertà intellettuale invece invece è così eh da tanti punti di vista che si potrebbero approfondire chiaramente che nel libro comunque sono sono abbastanza esplicitati persino libertà dal punto di vista politico eh questa è un po' una mia interpretazione naturalmente ma anche dal punto di vista politico per quanto possa sembrare paradossale il fatto che lui che Dante avesse un progetto politico che obiettivamente in quella in quel contesto cioè di restaurazione imperiale che obiettivamente in quel contesto non era propriamente progressista diciamo ehm però era essenzialmente per lui una ricetta contro il settarismo contro gli odi comunali ehm per come la vedo io oggi in un'epoca di particolarismi rivendicazioni di piccole patrie sovranismi trovo che abbia molto da dire persino dal punto di vista politico poi naturalmente su questo ci si può accapigliare naturalmente e ci si accapiglierà ma insomma ehm sì quindi essenzialmente eh il fatto appunto eh è l'attualizzazione anche dal punto di vista linguistico no eh questa libertà di Dante eh oggi cioè Dante era anche se chiaramente non ha senso usare la categoria di purismo insomma riferita a Dante però Dante era quanto di più antipurista si potesse si potesse concepire e persino oggi questo non insomma non non è privo di interesse perché nonostante tutto insomma gli atteggiamenti puristici non sono non sono mai tramontati eh se ne possono vedere in mezzo a un a una crescita del dell'uso del tutto il riflesso spesso dell'uso dell'inglese ma dall'altra parte ci sono anche delle rigidità eh insomma totalmente speculari. È stato bello poter sottolineare il paradosso di come oggi Dante sia spesso preso a campione no come il padre della lingua italiana e quindi è preso preso come campione del della conservazione della della lingua chi fa chi porta chi apporta innovazioni al corpo della lingua e dice ah cosa stai facendo sulla lingua di Dante ma invece Dante non è un conservatore nella nella lingua è l'esatto contrario ecco per quanto poi possa avere le posizioni delle delle più diverse a livello linguistico è un forte progressista e anche questa è una bella è una bella testimonianza. Beh manca a livello intellettuale ancora cioè il fatto che che Dante poi davvero da una parte era chiaramente un uomo di partito perché era inevitabile insomma essere così ma dall'altra riusciva davvero ad avere ad essere allo stesso tempo anche equanime non solo poi dal punto di vista letterario insomma la famosa Aiwola che ci fa tanto feroci facile no guardare le cose dall'alto in letteratura ma anche dal punto di vista poi concreto lui anche in episodi in episodi storici per esempio durante il suo periodo non non si era assolutamente poi peritato di di mandare di mandare al confino anche anche i magnati della della sua parte politica dei dei bianchi e anche questo oggi come dire questa equanimità e questo questo sapersi distanziare prendere un po le distanze in un'epoca in cui insomma di di contrapposizioni sempre sempre più forti di come dire di anche di opposizioni manichee no di demonizzazione dell'avversario ha molto da insegnare anche anche oggi questo a mio avviso. Vedo che l'ha colpita molto il cote politico della della questione si capisce perché in effetti è un aspetto molto molto importante ma per tornare alla lingua e per concludere questa nostra conversazione UPAG è più conservatore come tendenza linguistica o più innovatore siete più per la diciamo per la una revisione progressista delle delle regole grammaticali per esempio oppure per una restaurazione della della correttezza siete per appunto l'introduzione di un lessico nuovo o per la la attualizzazione di un lessico dimenticato? Il lessico dimenticato è essenziale per la produzione di nuovo lessico quindi eh diciamo poi io personalmente penso di essere non lo so molto combattuto tra i due fra i due poli quindi certi se parlo con persone molto progressiste mi scopro più conservatore se parlo con persone conservatrici mi scopro molto progressista e diciamo sono dei bacini che dialogano quindi riuscire a selezionare delle forme nuove è più facile e più efficace se si ha presente quali sono le forme del le forme del passato mi è capitato ora ora di di trattare la parola glossa che è una un termine oggi oggi la oggi proprio proprio oggi di ascendenza eh greca e la glossa era originariamente il il termine eh difficile eh che aveva bisogno di essere spiegato mi ha colpito molto rivedere come nella cultura greca eh questa gloss queste gloss cioè queste parole difficili fossero un po' il centro eh dello studio letterario e poetico perché vi è è stata forte per molti secoli l'idea che questo patrimonio eh di arcaismi di ehm voci dialettali dovesse restare disponibile eh per la poesia quindi mh tante volte abbiamo un'ottica utilitarista per cui ma ma cosa me ne faccio di queste parole eh che ormai perdute nel perdute nel passato invece la conservazione ha un senso perché ci permette di attingere a delle risorse che hanno avuto un valore che possono avere tuttora un un valore la storia delle parole è ciò che ci permette di comprendere com'è che se ne possono creare di nuovo e com'è che la lingua cresce e quindi com'è che noi stessi la possiamo la possiamo coltivare quindi diciamo non c'è non c'è buon progressismo senza eh una conoscenza approfondita di ciò eh di ciò che è stato eh detto questo eh di fronte a usi molto nuovi per pensiamo il piuttosto che disgiuntivo eh che è un una è un tipo di di uso quindi invece di dire preferisco la pizza piuttosto che il dolce quindi una un confronto un paragone eh diventa una congiunzione disgiuntiva quindi possiamo andare a mangiare la pizza piuttosto che eh una una pasta asciutta via dicendo eh ecco io non lo uso e ehm comprendo quando è che viene censurato però è anche vero che eh la scheda eh che formato scritta dall'Accademia pubblicata dall'Accademia della Crusca eh con la penna di Ornella Castellani Polidori è del duemiladue e nel duemiladue si scagliava contro contro questo uso dicendo ormai sono dagli anni ottanta che che invale ecco ora sono passati altri venti anni quindi quando certi usi certe novità incominciano ad avere quarant'anni sulle spalle e continuano ad essere sempre più diffusi eh non ha più molto senso ecco opporsi magari uno eh personalmente può non usarli ci sono tanti nuovi usi linguistici che personalmente possiamo scegliere di non usare ma eh c'è questa eh discrasia c'è questa differenza fra la lunghezza della vita umana e dell'esperienza umana e i tempi della lingua sono diversi la lingua cambia con un respiro diverso rispetto a quello della della vita umana quindi tante volte ci ritroviamo di fronte a un mondo linguistico che che cambia e siamo molto pronti a censurare questi questi cambiamenti però poi vedendo il cambiamento dall'alto quindi insomma avendo cercando di comprendere qual è il respiro eh della lingua sono cambiamenti anche molto molto normali quindi in una certa misura naturalmente da eh da accettare la cosa importante ecco è eh cercare di separare il grano dall'olio quindi cercare di vedere quali quali sono usi buoni positivi e quali sono eh usi invece negativi da da contrastare e quali invece sono semplicemente dei fatti linguistici e una volta che si sono affermati ecco non c'è più molto non c'è poi molto da fare. Per il resto le lingue si sono sempre evolute anche così per usi che si affermano eh e che si e che si trasmettono per imitazione no? Qualcuno che imita qualcun altro eh nel nel riprodurre una certa espressione che a un certo punto diventa normativa o è sempre stato così. Beh addirittura c'è uno dei primissimi documenti neanche proprio dell'italiano ma del latino che si sta avviando in quella direzione che è la lista fatta da un povero grammatico disperato con tutti gli errori eh non lo so si dice frigidum non frigdum da cui poi è venuto freddo e quella lista lì in realtà è preziosissima perché ci fa vedere le forme intermedie attraverso cui la lingua è passata dal latino all'italiano quindi dal nostro punto di vista è il capostipite dal punto di vista di cui il grammatico era una lista di errori di forme sbagliate e quindi aveva ragionissimo anche il grammatico perché comunque ci vuole ci vogliono ci vuole una struttura perché la lingua è una struttura è una convenzione un insieme di regole che vengono pensate applicate comunemente dai parlanti se non avesse delle regole non esisterebbe neanche però d'altra parte ecco cercare di reggimentarla eh troppo può portare a dimenticare che anche un essere vivente ecco io la vedo proprio come un cagnolino alla lingua cioè non è l'animale senza regole non è il lupo però non è neanche un animale che puoi tenere chiuso nello sgabuzzino è un animale che entro in certa misura cresce e corre fa quello che vuole ecco e dunque è un animale che richiede una certa libertà appunto una certa libertà di espandersi e di crescere come 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 ritiene meglio alla fine salvatore vuole dire anche lei qualcosa di conclusivo su questo sì la libertà che chiaramente non è mai assoluta come come nessuna libertà però effettivamente l'esempio fatto da lucia calza benissimo perché a volte a me viene da pensare sì va bene a quei tempi la lingua si evolveva in un certo modo e quindi i grammatici poi bacchettavano diciamo l'uso l'uso popolare perché non c'era un' alfabetizzazione di massa e quindi io penso ma accidenti oggi c'è l'alfabetizzazione di massa no e quindi dico ma certe cose non dovrebbero succedere ma in realtà non è così perché anche se uno comunque è alfabetizzato evidentemente certe evoluzioni alla fine hanno la loro razionalità interna e quindi in certi casi come diceva giustamente Giorgio c'è una logica certo ci sono anche i casi semplicemente di di vezzi o di o di usi insomma che che possono essere contrastati ma normalmente quando una cosa si afferma non c'è non c'è nulla da fare se realmente sul piuttosto che vedremo vedremo come andrà non siamo ancora sicuri probabilmente se ora non so quanto tempo debba passare mi sembra che sia molto combattuta la cosa nel caso del piuttosto che mi sembra che anche le forze anche le come dire le forze di contrasto mi sembrano molto molto agguerrite vedremo vedremo come andrà a finire allora io vi ringrazio molto di aver partecipato a questa bella conversazione lucia salvatore giorgio grazie ancora buon lavoro e all'anno prossimo per esempio grazie mille professore arrivederci 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 Grazie.